Si chiama povertà energetica e ne soffrono quasi 10 milioni di italiani. Faticano a riscaldare casa e sono in ritardo col pagamento delle bollette. In loro soccorso arrivano i TED, acronimo di Tutor per l'energia domestica. Un po' come i navigator, che dovranno aiutare i disoccupati a trovare lavoro, i TED hanno il compito di supportare i cittadini, educandoli a consumare meno, puntando su elettrodomestici e materiali più efficienti, evitando le dispersioni di energia, ma anche di calore, come quelle da porte e finestre. Ma non solo aiuteranno le famiglie ad ottenere il bonus sociale, energia che esiste da tempo, ma che, in media, solo un avente diritto ogni tre richiede. Infine, forniranno un supporto analogo agli inquilini in edilizia sociale, dove lo faranno sia a distanza che nelle case, come grazie al sostegno di un progetto dell'Unione Europea. Quando? Già adesso. I primi 100 TED sono stati formati e, da pochi giorni, sono già in servizio.